Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui, ritornati su Fortnite, perché sì, tra poco ci sposteremo su Fortnite per giocare in ranked e smadonnare un pochino, e giocheremo appunto con questo fantastico nuovo mouse, che io in realtà sto già utilizzando da una decina di giorni, cioè molti degli ultimi video che avete visto in realtà sono stati registrati mentre giocavo con questo fantastico nuovo mouse, che pesa sotto i 40 grammi, cioè praticamente tra tutti i mouse, quelli un po' più competitivi, con un po' più di polling rate, di acceleration, di tante altre cose che per un mouse competitivo sono importanti, questo qui è praticamente il più leggero se non tra i più leggeri, cioè stiamo parlando di un mouse sotto i 40 grammi. Per farvi capire, questo qui della Razer ragazzi, che comunque rimane il mio mouse principale e rimarrà il mio mouse principale, pesa sopra i 40 grammi, ma vi dico che la differenza, cioè lo so che sembra una cosa assurda, però la differenza si sente. Qui ragazzi tra l'altro abbiamo applicato, no niente non riesco a metterlo a fuoco, è pazzesco non riesco a metterlo a fuoco, ok, vedete abbiamo applicato sulla zona dei tasti, tipo un grip, ok, questo tessuto che fa proprio da grip, perché sennò era pulito pulito pulito, come starete vedendo da queste immagini, sì c'è tipo degli sberuccichi, delle cose che sono un po' dei mouse particolari. Ah, di che marca stiamo parlando? Del VL mouse, praticamente vi lascio il link in descrizione, ovviamente questa non è una sponsorizzazione, l'ho pagato, 150 euro è venuto, quindi molto di meno rispetto a questo qui della Razer, e infatti c'ha alcune statistiche, alcune caratteristiche un po' inferiori, ma adesso ne andremo a parlare. Comunque raga, scatolina molto molto carina, devo dire la verità, il ricevitore è il ricevitore più bello che esista, perché una volta che lo attaccate gli si accendono gli occhi, è una roba, c'è tipo bellissimo. Ovviamente qui all'interno c'era il mouse e il ricevitore, e sotto un po' di cosucce. Sacchettina per il mouse, all'interno c'erano appunto i grip, erano direttamente dentro col mouse, io poi avevo comprato anche altre cose, se gli volevo cambiare per esempio la parte sotto, per renderlo magari più scorrevole, insomma tutta una serie di cose che si possono applicare al prodotto, per renderlo più o meno scorrevole a seconda del tappetino che avete. Tra poco vi riparlerò nuovamente anche del mio tappetino, perché per chi non mi segue non ha mai visto questi unboxing, ovviamente non conosce la mia postazione. Ci sono altri sticker, perché da quello che ho capito era un mouse particolare, non so se è proprio il limited edition, però molto carino. E basta in realtà, è per quello che non ho messo neanche, non ho fatto il classico unboxing o in sala, o con la fotocamera dall'alto, anche se la fotocamera dall'alto ovviamente adesso la metterò per farvi vedere il gameplay mentre lo utilizzo. Quindi adesso ragazzi ci spostiamo direttamente in game, e mentre giochiamo vi parlerò un pochettino di questa bestiolina. Ok, stavamo parlando del mio tappetino. Come vedete non è un tappetino classico, normale, di tessuto, bensì è un tappetino in vetro temperato dell'Asus. Ci ho già fatto un video, ci ho fatto proprio un video dedicato, e praticamente i mouse qui in poche parole volano. Ed è un po' per quello che mi sono fissato con i mouse leggeri, cioè tutti questi mouse qui me li sto comprando perché sono leggeri. Tra l'altro io ho anche una mano grande, quindi non so neanche quanto siano adatti per il mio palmo, perché ragazzi per scegliere il mouse giusto bisogna vedere 600 mila miliardi di cose. Poi alla fine della fiera, quello che vi dico sempre, è che la differenza non lo fa il mouse, non lo fa la periferica, quello sicuramente vi dà una mano, ma alla fine per giocare bene è tutta una questione di allenamento. Poi se uno vuole giocare comodo è un altro discorso. Io comunque con questi non mi sto trovando male. Ah, nel frattempo comunque io vi ricordo di utilizzare ovviamente il codice creatore GGY, antitutto grande, tutto attaccato ai negozi oggetti di Fortnite. Mi raccomando ragazzi, è davvero fondamentale per supportarmi, quindi incontrate sempre che sul supporto a un creatore ci sia scritto GGY, antitutto grande, tutto attaccato, anche perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo. Grazie a quello di cuore a chi lo farà, è fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non lo aveste fatto, lasciando un bel mi piace per supportare questi video unboxing, che comunque come vi ho già detto ho visto e vi piacciono davvero tanto, ed è per quello che sto continuando a comprare i prodotti e a farci contenuti, andiamo a mettere pronto e continuiamo un attimino a parlare appunto di questo mouse. Ovviamente su questo ci abbiamo già fatto il video, ma era giusto per fare un po' una comparazione. Allora, raga, come vi ho detto, questa volta ho voluto fare una cosa un po' diversa dal solito, perché solitamente io quando faccio gli unboxing faccio semplicemente le prime impressioni. Però ho detto, ma quando faccio le prime impressioni, mannaggia la miseria, mi perdo tutto quello che è magari il commento un po' più tecnico del prodotto. Cioè, più che altro dell'utilizzo giornaliero del prodotto, perché vi do la sensazione a caldo e basta. Invece così, dato che è un bel po' che lo sto utilizzando, già vi posso dire un po' più di cose, penso possa essere un po' più interessante. Comunque, raga, visto che è un video tipo news dove vi parlo del mouse, ce ne andiamo le nostre casettine di fiducia anche se siamo in ranked. Allora, che cosa c'ha in meno rispetto al Razer questo VL mouse? Innanzitutto il polling rate, che è una delle caratteristiche principali dei mouse. Che cos'è il polling rate? Il polling rate definisce, tra virgolette, quella che è la precisione del cursore quando lo muovete nel monitor. Cioè, praticamente, quando io muovo il cursore, in questo caso muovo la visuale, più alto è il polling rate, più è preciso quello che stai facendo. Il problema? Il problema è che dopo i mille di polling rate, se non sei un pro player, la differenza non la senti. Un po' come gli FPS, che dopo, superato una certa soglia, puoi salire quanto te pare, ma se non sei un pro che sfrutta appieno tutto quanto, la differenza la senti poco. Però, raga, è una delle cose che io guardo, soprattutto per portarvi l'unboxing di un qualcosa di succoso. Comunque, 4000 è tra i più alti sul mercato. È lui che è una bestia da 8000. Anche se, comunque, ormai ce ne sono un po', eh, sul mercato che hanno 8000, tranquillamente. Ci sono anche alcuni VL mouse che hanno 8000. Solo che magari o un po' più pesanti, o magari avevano delle caratteristiche che non mi piacevano. Un'altra cosa che io, magari ogni tanto, ho sottovalutato anche in altri unboxing, in altri video dove ho parlato dei prodotti come mouse, è appunto l'accelerazione. Che prima, non so perché ve l'ho detto in inglese, acceleration, ma è l'accelerazione del mouse. Oddio mio, che lag che ho avuto. Che anche quello è molto importante. E se non ricordo male, ragazzi, questo c'ha 75-80. Questo dovrebbe essere uno dei più alti sul mercato. Mentre quest'altro 50, e quella è sostanzialmente poi la velocità. Non voglio dire di risposta, perché non è proprio la velocità di risposta, quella è un'altra cosa. Però è poi la velocità nel momento in cui ti vai a muovere. Tra l'altro, ragazzi, bisogna stare attenti, perché io sì, sto utilizzando un tappetino in vetro temperato perché è figo. Mi piace troppo usarlo. Anche perché sì, regà, io vado a vedere le performance, vado a vedere tante altre cose, ma poi alla fine della fiera uno si deve divertire e deve essere, tra virgolette, contento della propria postazione e di quello che sta utilizzando. Tutto qui. Però moltissimi in realtà consigliano dei tappetini in tessuto. Ci sono alcuni tappetini, ragazzi, che costano anche tantissimo che sono in tessuto, perché teoricamente nel momento in cui tu vai a fare il movimento col mouse negli FPS, quindi come i giochi tipo Fortnite, tantissime volte ti capita di fare un movimento e poi di tornare indietro. Ecco, avere un po' più di controllo sul mouse, che ha un attrito diverso nel tappetino in tessuto, è meglio, piuttosto che nel vetro temperato che ti sfugge. Io poi ci uso anche i mouse, quelli super mega veloci, super mega leggeri, quindi capite bene che non è proprio il top. Ecco, diciamo che quando mi lamento della mia mira del pump, un po' è dovuto anche a quello. Però, regà, ripeto, cioè a me piace un sacco, quindi per ora mi va bene così. E prenderò anche altri mouse leggeri. Preparatevi, ragazzi, perché farò altri contenuti di questo tipo e anche altre tastiere. Che poi, tra l'altro, ragazzi, alla fine della fiera, io non ho più fatto né il video su questa tastiera qui, che ormai c'ho da diversi mesi, e non neanche più fatto il video sulla tastiera questa qui che sto utilizzando. Ma sono un pollo, regà. Cioè, non ve l'ho più fatti quei contenuti lì, ma ve li devo fare assolutamente. Perché anche sulle tastiere, ragazzi, in questi mesi ho avuto tantissime esperienze con tantissimi prodotti diversi, e ci devo fare assolutamente un video. Comunque, l'ultimo unboxing che abbiamo fatto è stato quello dei prodotti Razer in collaborazione con Fortnite, ma io vi ricordo che quella roba lì l'ho presa per collezione, per puro collezionismo. Quindi andatevi a rivedere quel video dove ho preso tutto un set di mouse, cuffie, tastiere e tappetino, appunto, in collaborazione con Razer, di Fortnite ufficiali, bellissimi, pagati l'ira di Dio, perché comunque sono prodotti competitivi, anche se vogliamo. Ma io, regà, cioè, nel senso, li voglio tenere lì fermi, immobili. Anche perché, comunque, con tutto il bene, questa robettina che utilizzo io è leggermente superiore. Ora, quanto è importante la presa di un mouse? Quanto è importante il peso di un mouse? Tantissimo, ma dipende da voi. Nel senso, io ho una mano grande. In realtà dovrei utilizzare dei mouse un po' più grandi, per avere una presa un po' più idonea alla mia mano. Vi faccio un esempio. Questo qui è l'Atlantis della Lamsu, in collaborazione con i Fanatic. Vabbè, l'ho preso questo perché era quello colorato d'arancione. In realtà uno me l'ha regalato Serena, ho fatto anche di questo l'unboxing, è un video. Spoiler, ne ho comprato un altro per utilizzarlo perché l'altro l'ho voluto tener chiuso. E questo, raga, come vedete, ha un po' delle caratteristiche un po' più bombate, proprio a livello di forma. E infatti con questo, vi dico, a livello di prese mi trovo meglio rispetto a questo e a quest'altro. Però, raga, io sono troppo innamorato. Ragazzi, io amo questo mouse. E quindi, anche se ho una presa peggiore, utilizzo quello. E ogni tanto mi diverto ad utilizzare questi altri due, tanto per... Ora, fa bene cambiare mouse ogni volta? Ovviamente no, perché... A parte i DPI... No, i DPI in realtà metto sempre gli stessi. Io metto 800 di DPI, ma poi quelli variano anche in base a quanta sensibilità hai in game. Infatti, raga, ogni volta che mi chiedete con quanta sensibilità gioco le mie impostazioni, ogni volta, ragazzi, io vi rispondo che dipende anche dai DPI che avete, da quanti FPS... Con quanti FPS giocate... No, raga, devo assolutamente curarmi prima di fare questo fight, perché sennò la vedo molto male. Ok. Non mi ha visto arrivare qui? Possibile? No, raga, non mi ha visto. È andato di là. È andato di là, non ci posso credere. Non so se mi sta... Sì, mi ha sentito. Eh, vabbè. Ma mi basterebbe un colpettino, eh. Ok. Ok. Poi, ditte, gliel'abbiamo date. Voto. Voto, veramente. Non so se ho visto bene se stava scappando per di qua. Dicevo, cambiare mouse ogni volta, regà, o comunque chiedere le sensibilità a qualcuno, ha poco senso nel momento in cui dipende dai DPI che avete, dal mouse che avete, dal monitor, da come giocate, perché molti giocano di polso, molti giocano di braccio. Regà, purtroppo giocare un mouse e tastiera comporta veramente tantissime variabili nel momento in cui uno deve scegliere che mouse comprare, come gestirlo, che tasti utilizzare, che impostazioni utilizzare. È veramente molto, molto, molto complesso, perché, ovviamente, ripeto, le variabili sono infinite. Sono veramente infinite. Come è infinito questo player che continua a scappare. Regà! Ma veramente di pochissimo non lo sto ittando. Ma giusto per capire quanto si è curato. Ma perché me li trovo sempre io a dove è, se in mezzo alla gente mi spara da lontano? Ok, vabbè. L'abbiamo spaventati tutti. Va bene. Pure quello se ne sta andando, ma secondo me quello se ne sta andando per poi tornare. Devo stare attento perché ce l'abbiamo dietro. Quindi, raga, il momento in cui io cambio tante volte mouse, ovviamente, non è proprio il massimo. Perché uno si deve abituare con i propri tasti, bisogna abituarsi con le proprie sensibilità. Tante volte, regà, quando uno dice, eh, vabbè, ma ho cambiato i tasti ma non mi ci trovo. Ho cambiato quello ma non mi ci trovo. E, regà, perché c'è una cosa che si chiama abitudine. Quando giochiamo, regà, facciamo una marea di processi mentalmente che non ragioniamo neanche. Ce facciamo in automatico. Soprattutto il buildare, fare le cose rapidamente. Non è che tu stai tanto lì a pensare. Cioè, le fai e basta perché ormai sei abituato a farle e sai che cosa devi fare in quel momento e la fai. Quindi nel momento in cui sei abituato con quei tasti, il tuo corpo è abituato ad un certo tipo di risposta ai pericoli, tra virgolette. Cambiare ogni volta sensibilità, tasti, eccetera, non è per niente conveniente. Da sto punto di vista. Infatti, raga, ho smesso di cambiare i tasti perché secondo me ho trovato quelli in cui mi trovo abbastanza bene. Stavo pensando a switcharne giusto un paio, però bene o male ho trovato una... Come posso dire? Una linea da seguire, tra virgolette. Sui mouse e sulle tastiere questo non ve lo posso promettere perché mi piace proprio provare dei prodotti nuovi. Mi piace recensirveli, tra virgolette. È proprio una cosa, sono proprio dei video che mi piace fare. Non saranno i più seguiti del canale, però vedo che chi se li guarda, si li guarda con piacere. Ripeto, cioè molti di voi stanno piacendo. Quindi stavo dicendo, raga, tornando al discorso di prima, non c'è proprio un modo per trovare il prodotto migliore rispetto a un altro. C'è semplicemente un prodotto per te migliore che per un altro potrebbe non essere, ok? Cioè, il discorso poi è tutto lì. Quindi, per esempio, a me servirebbe un mouse un po' più grande. Magari non dovrei giocare con dei mouse così leggeri che mi partono così velocemente tra le mani. E cose di questo tipo. Quindi ecco, ci tenevo a fare comunque sempre questo discorso qui. Per quanto riguarda il resto, raga, per quanto io possa trovarmi meglio con quest'altro di mouse, a livello di impugnatura, e anche con questo, raga, mi trovo da dio. Stessa cosa per quanto riguarda l'altro mouse, quello appunto della Razer. Cioè, mi trovo da dio anche con quello lì, ovviamente. Cioè, se no, non li utilizzerei neanche così spesso, insomma. Comunque, ripeto, il link di questo, se volete andare a dare un'occhiata, anche semplicemente al sito per divertirvi, perché fidatevi, io vi consiglio di andare a vedere semplicemente il sito per divertirvi. A me ci ha messo tipo due settimane ad arrivare, appunto perché arriva dalla Cina, un po' un casino. Comunque non costano poco. Io la sento che la plastica con cui sono fatti questi mouse non sono al top. Quindi non è proprio un prodotto premium. Cioè, raga, questo l'ho pagato 100 euro, ok? E ha, lo sento, lo sento che è un prodotto valido, ok? Della Lamsu, fa cose di un certo tipo. Questo, raga, 150 euro, per carità, a livello di caratteristiche magari superiore, però a livello di qualità del prodotto... Capito? Cioè, capite che intendo? Ripeto, quindi io rispecifico questa qui, raga, non è una collaborazione, non mi hanno pagato, non me l'hanno regalato, anzi. Però sicuramente, se avete del budget, volete divertire e vi interessa un mouse super mega leggero, che sia addirittura più leggero di quell'altro Razer che ho io, potrebbe essere una scelta quantomeno divertente, ecco. Quanto meno divertente. Io ripeto, ci sto giocando da una decina di giorni, non mi ci sto... Ma forse anche di più, eh, forse anche di più, non mi ci sto trovando per niente male. Comunque, raga, io non mi sono neanche messo lì a vedere a quanti DPI arriva, perché ormai, raga, tutti i mouse arrivano pure a 30, 40, 50 mila DPI, ma nel gaming sono inutili, perché tutti quei DPI sono veramente un po' too much. Questi stanno fai dando qua dentro? Sì, ma io vi dirò di più, no? Non me ne frega niente? No, no, ragazzi, mi sono sbagliato, in realtà, non volevo venire a disturbarvi, fate quello che vi pare, va bene così. E quindi stavo dicendo tutte quelle altre caratteristiche lì, non le guardo. Io, raga, principalmente guardo... Madonna, che lag! Sì, va bene, va bene, gioco, va bene, va benissimo, io non sto impazzendo, assolutamente, non ti preoccupare. Madre mia, ragazzi, cioè mi si frizza poi di continuo il gioco e non riesco più ad avere la risposta, tra virgolette, a quello che sta succedendo. Madre mia, raga, madre mia. Ok, ma quello mi sta continuando a seguire? Oggi, raga, cioè in quest'artito ho fatto tipo 3-4 fight, ma non è andato a... uno. Non è andato nessuno in porto, cioè non mi hanno mai killato e non ho killato io. Fa abbastanza ride sta cosa, molto ridere, ma anche riflettere. Ok, ma tra poco vi dico cosa guardo io in un mouse che possa interessarmi. Questo, raga, comunque mi ha palesemente continuato a seguire e mo' si è nascosto da qualche parte. Appena ha capito che mi son curato ha smesso di pushare. Il problema, raga, è che mi ha fatto utilizzare tutto il legno e anche di mattone e di ferro non è che fossi messo benissimo, ecco, purtroppo. Allora, il peso, e ve ne ho già parlato prima anche del perché, mi sto un po' fissando con questa cosa dei mouse leggeri. Tra l'altro il mouse leggero ti permette, più che altro, ecco, questo magari era già un discorso più interessante da fare prima, di tenere un po' più basse le sensibilità e avere comunque una manualità, tra virgolette, del gameplay comunque rapida, nonostante hai magari delle sensibilità un po' più basse. Ecco, quello effettivamente si fa sentire. Ho sempre avuto mouse pesanti prima di questi qui e vi posso garantire che effettivamente da questo punto di vista si sente. La differenza si sente, quindi puoi permetterti di abbassare un pochino le sense e quindi poter essere poi più preciso nei movimenti. Quindi quello si sente. Come anche il tappetino in vetro temperato, anche se però già vi ho detto il tappetino in vetro temperato, non so quanto consigliarvero, però perché comunque è molto particolare. Io pure ci ho messo un po' comunque ad abituarmi, ci è molto molto particolare. E tuttora non so se io giocherei meglio appunto da un tappetino normale piuttosto che da questo. L'altra cosa che guardo, e forse la guardo anche un po' di più rispetto ai grammi, quindi al peso del mouse, è il polling rate, quello che vi ho spiegato prima, quindi non credo ci sia bisogno di rispiegarvelo. Io vi dico che già sopra il 1000 di polling rate è un ottimo mouse. A 2000 di polling rate parliamo di un top mouse, cioè uno di quei mouse anche competitivi tranquillamente. Ma io vi dico che fino a qualche tempo fa, anche Mr. Savage, se ho capito bene quali mouse avesse, fino a qualche tempo fa competeva con mouse da 1000 di polling rate, quindi per dirvi. E poi ovviamente, ripeto, da 4-8000, poi lì parliamo proprio del top, top, top di gamma, ma è una di quelle cose che non so quanto possa valerne la pena. Ok, ci siamo intrati un pochino a vicenda, ma ha avuto un attimino la meglio lui, perché c'ha DMR. Ok. Madonna, regale. Ah, mi sta pushando? Eh, vabbè. Eh, vabbè. Eh, raga, mi bomba sicuramente, eh. Mi bomba, di sicuro. Però se riesco a scappare sarebbe il quarto fight che faccio senza killare o essere killato. Fa abbastanza ridere sta partita. Posso essere sincero e fa abbastanza ridere? Allora, facciamo così. Mamma mia, meno male, abbiamo trovato... Eccolo lì, mi sta cercando lì giù, meno male. Meno male, abbiamo trovato sti scildini. Oh mio Dio. Quindi ecco il polling rate, quello lì. La presa, tra virgolette, quindi quanto è bombato da una parte, quanto è bombato dall'altra. I tasti, come sono messi. Quindi se per esempio utilizzate mouse che hanno due o tre tasti laterali. Che ne so, per esempio un po' fa ho preso quando usavo ancora tre tasti laterali. Ho anche questo qui sempre della Razer. Insomma, vedo anche un attimino la presa dei tasti laterali, di come è messa anche per esempio la rotella. Perché molti mouse hanno per esempio i tasti della rotella anche che li potete schiacciare lateralmente. Che sono dei tasti in più e secondo me è una roba molto comoda. Quindi diciamo posizione dei tasti e impugnatura del prodotto, tra virgolette. L'estetica, perché anche l'estetica in realtà la guardo abbastanza, anche se poi non è la cosa più importante. Però secondo me comunque ha l'occhio alla sua parte e questo credo sia innegabile, tra virgolette. Poi sì, ci sono tutte quelle menate, tipo i profili. Cioè nel senso, se siete persone che competono o comunque che vogliono avere un certo stile di gioco, di un certo livello in più giochi, avere i profili nel mouse è fondamentale. Quindi avere tre profili nel mouse, selezionare il profilo che volete utilizzare per ogni determinato gioco è importantissimo. Ne so, avere 800 dpi per giocare a Fortnite, 300 dpi per giocare a Minecraft, cioè non sto prendendo giochi a caso. Quello è fondamentale, non per me perché prende da mouse e tastiera gioco solo a Fortnite, quindi per me è indifferente, però capisco che magari per altre persone possa essere importante avere prodotti che ti permettano di poter modificare anche da questo punto di vista i tasti e le impostazioni che vengono messe. Altra cosa molto importante, secondo me viene sottovalutata, è il programma poi con cui gestire il mouse. Per esempio vi dico che di questo vuoi il mouse, gestire le impostazioni è impossibile. Cioè io ho dovuto mettere 800 dpi, mi sono impiccato, mi ha aiutato Serena. Non abbiamo trovato nulla sul sito, siamo dovuti andare in qualche blog in giro su Reddit a caso e abbiamo trovato le risposte su come impostare i dpi, come impostare il polling rate, un po' alla come veniva veniva. Dovevamo fare tipo una combinazione di tasti, una roba strana, non ti scrivi neanche quanti dpi sei, quindi sono andato un po' a occhio. Cioè, insomma, molto scomodo, questo molto scomodo, infatti da questo punto di vista gestire questo mouse è molto difficile, cioè devi andare un po' a intuito, tra virgolette. Cioè il suo programma con cui gestirlo non mi ha fatto proprio impazzire, anzi, devo dire la verità, mi ha fatto abbastanza schifo. Mentre per quanto riguarda Razer è abbastanza top, anche il LAMS in realtà è abbastanza facile da impostare e da utilizzare e anche i Logitech in realtà di base non sono così difficili da utilizzare da questo punto di vista, ecco. Credo di aver detto tutto sui vari motivi per cui scelgo un mouse piuttosto che un altro. Penso di sì, penso e spero di sì. Comunque dicevo, a livello di reattività, a livello di... come si chiama... sì, tempo di risposta del prodotto, ormai è veramente difficile trovare quel prodotto stramega scadente che faccia schifo, cioè è molto difficile trovare un prodotto che veramente non sia all'altezza di essere chiamato mouse. Cioè, ormai anche con dei budget davvero ridotti si riescono a comprare dei mouse che hanno comunque un minimo di tempo di risposta decente per poter giocare decentemente. Secondo me la differenza dell'andare a pagare un prodotto un po' di più piuttosto che altri sta anche un po' nella loro durata, tra virgolette, cioè da mouse del genere come questi qua miei io mi aspetto che durino nel tempo e non poco. Ora, questo well mouse ho dei dubbi sul fatto che duri parecchio nel tempo proprio per i motivi anche che vi dicevo prima però mai dire mai, eh, mai dire mai. Qua, raga, è una mia teoria semplicemente, però mai dire mai, ecco. Per quanto riguarda il Razer sono abbastanza convinto che sicuramente un pochino mi durerà, eh. Un po' tanto potrà durarmi senza troppi problemi, ecco. E quindi ovviamente anche quello va preso in considerazione. Ora, possiamo prendere in considerazione il fatto che vorrei provare a vincerla a sta partita? Secondo me è tosta, eh. Molto difficile. Ho già visto 3-4 traiardini che stanno proprio a mille e non so quanto possa essere facile portarci a casa una partita del genere. Ah, poi vabbè, questo pure mi sembrava abbastanza scontato nel discorso. Wireless o col cavo? Lì dipende da voi. A me in realtà va bene, sia col cavo e wireless. Ultimamente ne sono capitati questi wireless. Sicuramente non mi dispiace non avere il cavo. Quindi li imposto sicuramente in modalità wireless. Cablato, regà! È sempre comunque una garanzia. Anche se però, devo dire la verità, sui mouse c'è un po' una controtendenza. Cioè, mentre in tanti altri prodotti il cavo è sempre una garanzia, è sempre la cosa che fa la differenza, eccetera, eccetera. Sui mouse il fatto di avere questi ricevitori che potenziano il polling rate invece rendono i mouse ancora più performanti, eh. Cioè è molto controintuitiva come cosa. Però effettivamente è così. Cioè, per esempio, questo mouse se non lo attaccassi con quel ricevitore, ma col cavo, dovrebbe avere meno di polling rate. Di sicuro questo vale per il Lamsu. Per questo qui, ragazzi, se non utilizzo il suo ricevitore, ma per esempio lo utilizzo col cavo, a meno di polling rate. Su questo sono proprio convinto. Lo so per certo. Ma anche altri mouse, è letta pure lo stesso Razer. Anche questo qui, che è proprio un top, top, top di gamma, fascia altissima, utilizzato con altri tipi di ricevitori o col cavo, a meno polling rate del suo ricevitore. Quello Hyper Polling, come lo chiama Razer, e diventa più performante. Quindi state attenti anche a queste cose quando le andate a comprare, eh. Su questa cosa, vi dico, state attenti particolarmente a Razer, perché Razer nel sito vi scrive questo mouse può arrivare da top polling rate a top polling rate. Però dovete stare attenti voi a leggere bene. Allora, non è che lo fanno per fregarvi, eh, perché se voi leggete le specifiche ve lo scrivono per filo e per segno quello che dovete fare per avere i polling rate al massimo. Eh... Ok. Perché tutti ti sparano ma solo a me controbatti? Vabbè. E quindi state attenti, però anche sugli altri siti ovviamente state sempre attenti, perché magari vi aspettate un prodotto, però siete voi che sbagliate le impostazioni e ve ne trovate un altro. Ecco, questo ci tenevo comunque sia a specificarlo, perché può succedere tranquillamente con ogni tipo di mouse che abbia appunto questo discorso del cavo, non cavo, wireless, non wireless, eccetera, eccetera. Allora, fermi un attimo da di qua. Ok. Ok. Perché, regà, non mi sta andando avanti. Eh, nonna, regà. Ma perché sto laggando così tanto in sti giorni? Ok. In realtà me la volevo farmare quella roccia, eh, ve lo dico. Però va bene. Che partita, regà. Mm. Non mi tocca, sei lì? Ma in realtà non so se sono... No, regà! Eh, ragazzi, qua so bello bloccato, eh. Mamma mia, regà, che fugone che abbiamo fatto. Che fugone che abbiamo fatto dalla sotto. Che fugone che abbiamo fatto dalla sotto. Strano che non mi hanno laserato. Eh, infatti ho parlato troppo presto. Ok. No! Mamma mia, regà, siamo ancora in quattro. Mamma mia. Eh, vabbè, che fugone di assalto c'ha questo? No, finito i materiali, regà. Dai, dai, almeno secondo. Ok. 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 No, ho finito di nuovo i materiali. Eh, regà, mi sa che questo è messo proprio bene. Eh, mannaggia. È incredibile, ragazzi. Cioè, ho fatto 6.000 fight in sta partita. Non ho fatto una kill e sono morto contro l'ultimo. Ma sta cosa, ragazzi, è stata pazzesca. Cioè, sta partita è stata davvero una roba senza senso. Non so se mi è mai capitato di fare 7-8 fight in un game senza killare e senza essere killato. Vabbè, c'è un 9%, ma voglio dire, veramente quasi senza far nulla. Boh, assurdo, niente assurdo. Comunque, ragazzi, detto questo, fatemi sapere che cosa ne pensate comunque. Qua abbiamo mostrato pure tutti i cavi, ma vabbè, chi se ne frega. Fatemi sapere se vorreste appunto il video anche sulle tastiere, nel dubbio. Non ci sono unboxing da fare, perché ormai pure le scatole penso di averle buttate. Non lo so, però su quello arrivi posso fare anche dei video un po' più approfonditi, perché ormai le usate da parecchio tempo. Ripeto, sono mesi. Link, comunque, ve lo lascio in descrizione. Anche degli altri unboxing, magari se ritrovo i video, ve li lascio in the description. Vi ricordo, il codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite, fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Lasciate un bel mi piace per supportare il video e per supportare questi unboxing. Per me è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzuali!